...quella che è la classifica generale e andiamo ad assistere a coloro che sino a questo momento non hanno commesso errori, non hanno commesso errori nelle prime due prove di questo campionato d'Italia sei anni assoluto. Il primo di questi è Clinsulmoni, cantini della caccia, il cavallo nato ed elevato in Italia presso la cooperativa sociale Onlus la caccia Clinsulmoni lo presenta e dà catture da una fine di Caritino 371 La caccia è stata un'altra fine 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 La caccia di Caccia E' un bravo Clint, che gara, che gara, ancora risultati positivi per questo sei anni che non è stato un clima in modi nel barrage. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.